Presidente Lapenna, qual è l'importanza di questo protocollo firmato questa mattina con i sindacati? Lanci e Abruzzo si impegna con gli enti locali abruzzesi in un percorso insieme ai sindacati per la tutela naturalmente di quelle che sono le fasce più deboli e più bisognose. Trasmetteremo questo protocollo a tutti i comuni, chiederemo ai comuni i loro protocolli perché molto viene fatto in Abruzzo dagli enti locali, non vogliamo se torni indietro quindi ci sia ancora massima attenzione per le politiche sociali e se vada avanti. Con questo accordo noi cerchiamo di agevolare tutti i cittadini ma in particolar modo gli anziani, chi ha bisogno di più, chi ha più povero, i pensionati e i disabili per avere agevolazioni fiscali e tributarie che altrimenti non avrebbero, seguendo soltanto una grande burocrazia che non porta mai a nulla. Una detestazione che sia veramente un momento importante per agevolare la vita di coloro i quali sono nel bisogno. C'è un bisogno ovviamente che l'abbiamo constatato nel territorio, l'importanza di questa mattina può significare proprio questo, dare ai cittadini un'assistenza diversa dal passato, migliorarla, qualificarla e sicuramente avremmo fatto un buon lavoro e questo buon lavoro è un auspicio che i comuni recepiscono quello che stiamo facendo nell'interesse dei colori i quali rappresentiamo. Con questo protocollo diamo un ambito più strutturato, diamo delle linee di carattere generale a cui si può far riferimento. Si parla della necessità di trovare delle forme per individuare dei bisogni che oggi sono inespressi. Pensiamo a tante necessità che a volte anche gli anziani sono costretti a rinunciare perché non riescono a trovare una possibilità di poter avere un diritto, di usufruire di un diritto.